30 milioni di metri cubi d'acqua in più rispetto a febbraio. Marzo, anche se con un leggerissimo incremento, ha regalato una salutare boccata d'aria agli invasi della Sardegna. A stabilirlo è il bollettino dei serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale della Sardegna, termometro costantemente sotto osservazione sulla consistenza degli invasi del sistema idrico multisettoriale regionale. Un incremento che però non deve far abbassare la guardia, tanto che, anche per il mese di marzo, resiste la condizione di vigilanza o di pre-alerta, con un valore dello 0,34. In base all'ultimo bollettino, il mese di marzo, ha registrato nel sistema idrico isolano 1.417 milioni di metri cubi d'acqua invasati, pari a circa il 77,7% del volume utile di regolazione autorizzato. Una cifra in leggero aumento e pari a 30 milioni di metri d'acqua in più rispetto a febbraio. Una situazione che induce l'ottimismo, seppure cauto, per l'estate e per l'irrigazione delle diverse culture stagionali. Buona la situazione anche per il sulcis iglesiente, dove, tra i bacini di Montebrano, Baurissio, Punta Gennarta e Medauzili Milis, a marzo erano stati invasati in totale 56,63 milioni di metri cubi d'acqua, ben 4 in più rispetto a febbraio, ma 10 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri che confermano la possibilità che ci saranno poche e limitate restrizioni all'irrigazione, ma anche una costante attenzione per evitare gli sprechi.